dovrebbe essere Zico che fa saltare Conti poi prova un tiro tagliato con il destro che va ad infrangersi sulla barriera disimpegno coraggioso ma rischioso di Antonioni inizia con perdere il pallone dalle 4-3 un gol bellissimo di Zico che lo merita diciamo per quanto ha fatto in questo primo tempo ha voluto, guarda come sono andati a pressare Van Basten da una parte da questa parte da su Aldo e guardate come riesce a mantenere questa palla in 10 cm fa sedere i tacconi ma la palla gli resta sempre non si stacca mai dal piede sempre la possibilità di buttarla dentro oh ragazzi l'orologio non l'ho inventato io qui lo rivediamo ancora una camera bassa questa volta è il gol del 3-4 per il World Star Team lo firma Arturo Artugnes Coimbra Zico con un bel tocchetto